no guarda ragazzi cioè è una poltrona un po' larga però non è la mia poltrona da gaming quindi avevo paura di cascar per terra vabbè l'ho fatto un po' ciao bella a tutti da me 14 secondi credo che sia record mondiale siamo tornati con questo nuovo video perché la francia ha rischiato no scusate il gesto ha rischiato no anche il gesto penso che si avesse pareggiato avrebbe ha rischiato grosso ha rischiato grosso perché secondo me ha controllato il match praticamente è passata un vantaggio chi li ha un vabbè mamma mia ragazzi ogni volta che accelera è imprendibile se pensiamo che questo ha 19 20 anni ha già vinto un mondiale e comunque già sciorina sto tipo di calcio anche a livello internazionale potrebbe diventare sicuramente uno dei più forti al mondo secondo me minimo un pallone d'oro nei prossimi anni lo vincerà se non vabbè lasciamo perdere chi lo sa hanno travolto areola nel frattempo quindi francia che passa che passa a mio parere meritatamente in vantaggio stava di celsi non so per quale motivo stava di celsi ma olanda che praticamente non non va mai al tiro in porta se non proprio un'occasione del gol del pareggio che è stata una svista abbastanza clamorosa da parte della difesa francese però fino a quel momento la francia aveva creato molto di più aveva tirato molto più in porta olanda che al primo tiro utile praticamente la butta dentro e va bene ma il calcio è fatto anche di questo perché comunque avessero pareggiato la francia avesse fatto 20 dirino specchio l'olanda uno solo se il risultato dice uno a uno i gol erano regolari è giusto che sia così ma vabbè a parte questo la francia che riprende consapevolezza dei propri mezzi e subito ripassa ancora una volta in vantaggio e vi dico che è meritato perché comunque ripeto l'olanda ha fatto solamente un tiro nello specchio tra l'altro con babbela che c'ha dei capelli inguardabili c'è un colore ma che cazzo dei colore dei capelli che si fa ma che cazzo dei capelli porti non lo so che cosa gli viene in mente ai calciatori se lo fanno per perché gli piace fa se vede non lo so io non mi farei mai dei capelli color free color boh vabbè e quindi niente se dimostrano i campioni del mondo se dimostra una squadra che sa reagire anche nei momenti di difficoltà tra virgolette perché comunque vai a prendere un gol dopo non aver praticamente mai subito nulla magari qualsiasi altra nazionale avrebbe potuto subire il contraccolpo e chi lo sa magari subì il gol del 2 a 1 che sarebbe stato alquanto clamoroso c'era l'espulsione su Pavar ragazzi se fosse stato il VAR credo che non gli avrebbero dato il giallo il fallo su chi? su Babbel se non mi sbaglio proprio quello era da rosso vabbè ma comunque non gli è stato dato è stato graziato e forse per il fatto che non c'è il VAR e quindi magari l'arbitro non l'ha giudicato poi così grave mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti di questa partita? secondo voi è giusta la vittoria della Francia o l'Olanda avrebbe meritato il pareggio? io mi sono dimenticato di fare un cenno allo stupendo gol che ha fatto in girata Giroud che ha subito riportato in vantaggio la Francia veramente un gran bel gol una bella girata era parecchio che Giroud non segnava con la nazionale francese? mi sa di sì non mi ricordo mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale al mio canale non a quello degli altri qualora non lo aveste ancora fatto e niente ragazzi miei io non ho altro da aggiungere se non che vorrei sapere appunto da voi che cosa ne pensate nei commenti c'ho un po' di sonno mi prode una coscia mi prode una chiappa mi sa che mi stanno a pizzicare 10 zanzare una in fila all'altra e niente non aggiungo altro ragazzi miei la Nations League praticamente inizia a entrare veramente nel vivo ma sarà lunga perché prima che finisce a voi a pedala buona serata domani portogallo Italia pronostico gameplay registrato oggi con Fabio non aggiungo altro bucchiappe segnano stavo per chiudere il video Ariola vabbè si è accartocciato perché mancano 30 secondi però Ariola si è accartocciato e per un attimo ho visto che l'Olanda avrebbe potuto pareggiare no sembra di no e quindi no 3 minuti e 40 ciao la chiudo qua ha vinto la Francia